puoi aiutare peppa in cucina tocca gli ingredienti e aggiungili alla scodella uovo farina zucchero burro muovi il cucchiaio per mescolare l'impasto della torta scegli una teglia tocca la teglia per versarci l'impasto ben fatto ora deve essere cotta nel forno tocca il setaccio per spargere lo zucchero a velo fatto tocca la brocca per versarci dell'acqua e scegli un colore per la glassa bianco muovi il cucchiaio per mescolare la glassa sembra deliziosa scegli un ripieno per la torta delizioso tocca una torta per glassarla ora aggiungi delle decorazioni che torta fantastica Grazie a tutti i dati Grazie a tutti.